Simpli festeggia 15 anni di attività nella sua Melito di Portosalvo. Migliaia di clienti serviti in questi lunghi anni con professionalità ed impegno dai fratelli Achille e Nino Spinella, nel nome di una tradizione che si tramanda di padre in figlio. Trasparenza, responsabilità e innovazione per un'azienda che oggi, sotto lo slogan festeggia con noi i 15 anni, intende condividere con la propria clientela questo lieto traguardo, seguito stamattina dalle nostre telecamere. Allora, buongiorno da Melito di Portosalvo, qui siamo questa mattina in via tenente Minicucci al supermercato Simpli, siamo con chi gestisce e chi ha fondato poi questo supermercato. Sono 15 anni che oggi festeggiate, 15 anni di storia, di tradizione e di valori del vostro mestiere ma anche della nostra area. Siamo qua, buongiorno intanto, siamo qua a festeggiare una ricorrenza con i nostri clienti con il popolo melitese che ci ha aiutato e fino a oggi ci ha scelti, ci porta avanti vuol dire che trasmettiamo qualcosa di buono, che offriamo qualcosa di buono siamo qua a festeggiare con tutti le nostre tradizioni, il nostro sapere, la nostra cultura in questo mestiere. Noi abbiamo anche letto da qualche parte, non a caso abbiamo parlato anche di valore non soltanto di tradizioni, che voi siete uno di quelle attività commerciali certificate cioè nel senso che voi fate un bilancio piuttosto trasparente e soprattutto improntato alla legalità. Ovviamente la legalità, al massimo della legalità, noi siamo qua per lavorare è una tradizione questa attività per noi, lo cerchiamo di fare al meglio delle nostre possibilità e capacità cerchiamo di offrire lavoro ai nostri paesani, al popolo melitese e oggi sembra che ci stiamo riuscendo dignitosamente bene. Voi avete questo supermercato, quello invece sulla via Peppino Sulforo e poi avete anche un punto su Bova Marina. A Bova Marina, aperto nel 2011, giugno del 2011 che oggi anche quello riscontra ottimo successo con il pubblico, con i clienti con dei risultati ottimi, riusciamo a dare lavoro a più di 40 unità lavorative siamo qua. Totalmente i tre supermercati, a quante bocche sfamano? Di sicuro 43 operai e poi tutto quello che concerne i localismi, panettieri, caseifici tutti i localismi, noi cerchiamo di aiutare tutto, le aziende, principalmente le aziende locali perché comunque è giusto che andiamo avanti noi del popolo poi le grosse aziende non ci possono mancare, dobbiamo per forza attingere pure da loro. Bene, quindi una Ferrari che vince le corse, se vince vuol dire che è il pilota non è soltanto la macchina buona ma c'è anche il pilota che la sa condurre. E' il gene, non è il pilota, è il gene. Si nasce, sono nato da figlio d'arte e cerco a oggi di mantenere quello che abbiamo. Noi facciamo gli auguri anche a nome della cittadinanza meritese dei paesi limitrofi per il vostro impegno e nell'augurio che questa attività possa continuare non soltanto a mantenere queste posizioni ma addirittura a crescere ed essere sempre di più importante per il paese. Speriamo di poter offrire ancora lavoro per il popolo meritese. Salve signora, buongiorno. Festeggiamenti quest'oggi per i 15 anni, di valori realizzati. Come si trova signora, com'è? Bene, bene. Acquista spesso qui, è il suo supermercato di fiducia? Sì, veniamo sempre, sì. Si trova bene ad acquistare? Quando va bene, quando no, dipende. Con la crisi che c'è signora, però riusciamo, dai. Si compra bene, la gente, il personale è accogliente. Sì, sì, come no. Ci state intervistando? Signora, a 15 anni quest'oggi si festeggiano di storie di valori per il supermercato Simpli in tutte e due le sedie. Lei è una cliente, si trova bene ad acquistare qui? Si trova benissimo. Anche il personale, voglio dire, accogliente? Si, è gentilissimo. Vengo sempre di qua, di là non vado quasi mai, però mi trovo abbastanza bene. Con la crisi che c'è, voglio dire, si trova bene ad acquistare. È un punto di riferimento, di accoglienza per lei? Sì, 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 abbastanza. E gli facciamo gli auguri al supermercato quest'oggi? Sì, tantissimi auguri. Moltissime le persone che continuano ad entrare, ad uscire per i propri acquisti al supermercato Simpli, quest'oggi in particolar modo, contenti, lieti della giornata di festeggiamenti del supermercato, che sentono proprio il supermercato che definiscono come il loro supermercato, dove si trovano bene, dove da anni continuano a servirsi. Affollatissimo il supermercato, come possiamo vedere. Tante le persone che anche accaldate, per esempio questa giornata caldissima, continuano sorridenti a fare i propri acquisti e a festeggiare insieme a tutti quanti i 15 anni di attività del supermercato Simpli. Continuano i festeggiamenti al supermercato Simpli per i 15 anni di attività. Adesso andiamo a dare un'occhiata anche nell'altra sede, nell'altro supermercato, in via Peppino Surfaro. Ecco, ci siamo spostati sull'altro supermercato Simpli, che è sulla via Peppino Surfaro di merito di Porto Salvo. Anche qui, come vedete, tantissima gente, quindi un supermercato, a parte che è un periodo estivo, un periodo di agosto, ma il fatto che ci sia questa affluenza vuol dire che anche chi è fuori merito, e anche i turisti riconoscono in questi due supermercati dei fratelli Spinella di Porto Salvo eccellenze, riconoscono qualità, riconoscono un servizio fatto veramente con il cuore. Tantissimi palloncini, come vedete, addobbano l'esterno di questo supermercato. Questo è l'ingresso, prima abbiamo visto l'uscita, qui c'è anche la macelleria. Come vedete c'è tantissima roba di qualità, anche molte offerte, c'è il personale che continua a lavorare, ad operare per servire alla meglio i cittadini, o meglio a servirli con grande professionalità, perché se i cittadini ritornano, molto probabilmente trovano non soltanto gli acquisti di qualità, ma trovano anche professionalità e accoglienza in questi supermercati. Lo shampoo, non dimentichi lo shampoo. Lei tutte le mattine viene a comprare in questo supermercato, è un cliente affezionato. Ho visto che le hanno anche regalato una penna, ma la danno a tutti i clienti o solo a lei? A tutti quelli che acquistano, penso. Ora come trova lei questo supermercato? Ottimo, servizio impeccabile, la merce buona, di qualità e tutto. Quindi possiamo dire che questi 15 anni sono festeggiati in maniera egregia e che fanno onore anche alla città di Porto Italia. Esattamente, sì.